Deve essere il mio leader, deve essere il playmaker della squadra, perché la parola leader presuppone poi altri particolari, c'è il leader per esempio, c'è il leader perché parla, c'è il leader dell'ospedale, quindi a noi interessa che sia il playmaker della squadra come è stato fino adesso. Dicevamo delle opportunità e dicevamo che il passato è dietro le nostre spalle, ci aspettiamo, mi aspetto che tutti capiscano il momento e facciano un passo in avanti. E in questo generalizzare il ruolo del playmaker è un ruolo sicuramente importante, ma non voglio e non dobbiamo mettere in croce un solo giocatore, perché in questa situazione ci sono trovati dieci giocatori, non uno solo, quindi non è solo il discorso di Buzzi, è il discorso di tutta la squadra. Quindi Buzzi è un elemento importante perché fa il playmaker, tutti gli altri giocatori hanno la stessa responsabilità per tirarci fuori, ci vogliamo tirar fuori da questa situazione.